Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo dopo un secolo un book tag nel senso che so che pare un po' strano visto che è veramente tantissimo che non ne facciamo uno ma ne ho trovato uno molto carino fatto da Sam di Thoughts on Times che è una delle mie booktuber preferite e visto che parliamo di fantasy e magari spegniamo anche il telefono direi che era il caso di farlo e insomma oggi indaghiamo un po' di cosine insieme legate alla lettura del fantasy consigli vari ed eventuali e... Pipi? Vieni qua le mami? No? Ok, e direi di partire tradurrò totalmente a braccio le domande quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa detto ciò spero che vi piacerà ovviamente vi devo ricordare qualcosina che è veramente tanto che non vi ricordo spero me lo concediate quindi se non siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella per essere sempre aggiornati se acquistate tramite i miei link di Amazon che trovate giù nell'info box ovviamente mi date una mano a sostenere la baracca e se quello che faccio vi piace, vi interessa eccetera ricordatevi di mettere like, condividere, solita roba insomma nulla di che sottotrovate anche sempre tutti i link ai miei social se volete seguirmi anche al di fuori di YouTube direi che però è arrivato il momento di parlare di libri che è quello che ci interessa fare qui il book tag si chiama Get to know the fantasy reader ovvero impara a conoscere il lettore fantasy e quindi insomma sono tutte domande legate all'esplorazione di questo genere so che non tutti siete qua perché io parlo di fantasy ma io leggo fantasy quindi mi fa un sacco piacere cercare comunque di coinvolgere anche chi non è un lettore abituato a leggere fantasy e insomma spero che possa risultare interessante la prima domanda è qual è la tua storia originale che ti ha avvicinata al fantasy e anche come insomma ti sei avvicinata a ridere ciao, bene, ok? molto bene a ridere, a leggere questa storia allora io devo dire che il fantasy per me è iniziato direi con Roald Dahl a cui io devo tutto, 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 tutto è uno dei miei autori tuttora preferito e ho iniziato leggendo Matilda che comunque è un fantasy fantasy di tipo realismo magico perché ci sono alcuni elementi di realismo magico però non è ovviamente le cose cioè non rappresenta chiaramente l'aspetto fantasy di Roald Dahl come invece hanno fatto le opere che ho letto successivamente come il GGG, le streghe e la fabbrica di cioccolato che sono sicuramente più dense e più ricche di elementi fantastici come ho iniziato a leggere praticamente io mi sono appassionata all'autore perché tra le prime letture consigliate della prima o della seconda elementare non mi ricordo di preciso c'era Matilda che mi era stata affidata dalla maestra che diceva che mi sarebbe potuto piacere moltissimo e da lì insomma poi in classe abbiamo letto tutti insieme il GGG un capitolo al giorno e quindi insomma ci siamo tutti tutta la mia classe era super appassionata del libro e comunque in generale di Roald Dahl e quindi insomma io ci sono super affezionata allora domanda numero due è se potessi essere l'eroina di una storia chi sarebbe l'autore e quale è almeno un troppo un cliché che vorresti fosse incluso nella storia allora io ho cercato di rispondere in modo breve ma non sarà così allora innanzitutto se io dovessi mai affidare la mia storia a qualcuno la fiderei a Erin Morgenstern perché solo lei è capace di creare un mondo magico immersivo in maniera così potente come io mi immagino anche perché da un lato mi piacerebbe vederla non solo nei panni di autrice di realismo magico o di elementi di questo tipo però mi piacerebbe molto che la mia storia o poi la mia storia la storia che vorrei che scrivessero non so dove io posso contribuire in qualche modo sia a metà tra realismo magico e urban fantasy quindi lei è perfetta e vorrei che avesse i seguenti tropes innanzitutto la creazione di un gruppo che trova con grande fatica anche con grande proprio spargimento di sangue litigi e contrasti il modo per funzionare insieme cioè il modo per avvicinarsi l'un l'altro e creare un vero e proprio gruppo solido questa è una cosa che a me affascina sempre e affascinerà per sempre quando è fatto bene la dinamica del gruppo per me è un elemento imprescindibile nei libri cioè è una delle mie parti preferite però ovviamente il gruppo deve essere un gruppo credibile funzionante e quant'altro ogni riferimento ad opere esistenti che io spingo da anni è puramente casuale non può ovviamente mancare un'impresa pericolosa che metta a repentaglio la vita di tutti perché sennò non potrebbe essere un buon fantasy e ovviamente io ci vorrei le streghe perché se io dovessi mai far parte di un fantasy io voglio essere una strega e voglio che siano coinvolte le streghe e l'ambiente stregonesco perché sennò, ripeto, non sarebbe la mia storia in ultimo, proprio perché sono molto falsa se mai ci dovesse essere un elemento romance dentro questo fantomatico libro che stiamo costruendo e boh, se qualcuno scrive e mi vuole scrivere io progetto cose a caso se mai ci dovesse essere l'elemento romance che non è necessario nella mia storia ma vogliamo mettercelo? mettiamocelo perché sono falsa vorrei che la dinamica fosse un altro cliché ovvero il cliché del hate to love relationship ovvero una dinamica che parte da a due personaggi che tendenzialmente si odiano all'inizio e poi imparano a conoscersi e mi giustifico dicendo che innanzitutto sarebbe molto molto probabile che sia la storia vicino a me e soprattutto perché questo dà modo al lettore di vedere l'evoluzione dei personaggi e trovare dei punti d'incontro in modo che proprio inizi a conoscere molto bene i personaggi e io tendenzialmente se è fatta bene questa dinamica che è molto rara l'amo proprio l'amo io mi vendo questa dinamica qual è un fantasy che hai letto quest'anno e che vorresti che più persone leggessero? questa è la prossima domanda io ho due risposte per voi purtroppo me le sentirete ripetere così spesso che nemmeno le goccioline d'acqua che perdono dal rubinetto sono così insistenti e fastidiose a me dispiace ma io sono qua per scassare le ovaie e quindi non posso non includere in questo suggerimento ovviamente The Starless Sea cioè Il mare senza stelle di Erin Morgenstern che uscirà a giugno in italiano quindi se non lo avete ancora letto in inglese lo potete leggere in italiano molto presto e se non lo leggete il secondo volume che vi suggerisco io l'ho letto in anteprima e ne sto già parlando perché io trovo che sia un'uscita che è passata molto in sordina perché non c'è ancora una release date e uscirà per Bloomsbury e in questo caso si tratta di Susanna Clark con Piranesi Susanna Clark è l'autrice di Jonathan Strange e Mr. Norrell che io amo alla follia e quindi questo suo ritorno non vedo l'ora non vedo l'ora che arrivi anche a voi dovrebbe uscire nella seconda metà dell'anno proprio poco prima dell'inverno o in inverno non si sa veramente ancora nulla però tenete d'occhio il sito di Bloomsbury e chissà che non arrivi anche in italiano quarta domanda chiede invece qual è il tuo sottogenere del fantasy preferito invece quale non leggi molto o non hai letto molto o non hai esplorato granché allora devo dire che i sottogeneri del fantasy sono talmente tanti che preferisco dirvi cosa non mi piace di quelli che ho letto che risulta più facile rispetto a quelli che ovviamente non conosco, non ho letto o magari non ho esplorato così tanto e quindi sapete già tutti qual è il mio genere meno preferito del fantasy tra quelli che conosco bene perché vi ho appena finito di scassare le balle con due puntate sull'epic e il high fantasy ci sono ovviamente all'interno di queste di questo genere cose che a me piacciono molto ma è proprio il genere che io chiamo sassiccia e polipo spadoni contro spadoni e a me annoia parecchio i miei generi preferiti sono realismo magico urban fantasy green dark gothic fantasy e sword and sorcery eroic in parte non tutto mi piace di questo genere ma le cose che mi piacciono di questo genere mi piacciono moltissimo la quinta domanda invece chiede qual è un autore un'autrice che qualsiasi cosa pubblica tu compri immediatamente io penso che questa domanda cioè andiamo agili veloci e rapidi perché sappiamo tutti che la risposta è lì vardugo la stessa domanda invece chiede quali sono i modi in cui trovi delle raccomandazioni o come scovi i titoli da leggere allora io ho diversi modi che cerco di spiegarvi perché così vi spiego le mie non so i miei compartimenti mentali e la mia follia tendente all'ossessività in modo che così possiate comprendere diciamo che innanzitutto partiamo dalle novità come trovo le novità chiaramente cerco di guardare moltissimo al mercato estero soprattutto quello americano e quello UK perché sono quelli dove ci sono spesso molte novità non guardo purtroppo all'area tedesca all'area francese all'area spagnola perché è difficile che ultimamente legga in lingua a parte che il francese non lo so è quello un altro paio di maniche in tedesco non leggo un volume da un sacco di tempo spagnolo tendenzialmente faccio un po' fatica quindi vabbè in ogni caso quindi guardo soprattutto a questi due mercati dove c'è ovviamente una sovrabbondanza di titoli e ci sono moltissime novità soprattutto anche riguardo ai miei autori e le mie autrici preferite ma anche cose molto nuove oltre a guardare ovviamente cioè dove poi li vado a vedere sia sui siti delle case editrici ci sono alcune case editrici anche con cui io collaboro che sono Penguin e Bloomsbury con cui ho anche un rapporto dove spesso mi inviano le loro novità controllo Goodreads controllo diversi blog dove già diciamo prima che inizi l'anno nuovo si sanno già tutte le uscite perché non sono come gli editori italiani che te lo fanno sapere al libro già uscito cioè tutti partono quasi sei mesi un anno prima a comunicare le uscite previste perché così creano e generano curiosità poi seguo ovviamente una serie di youtuber e booktuber perché alcuni soprattutto all'estero sono molto informati sulle novità collaborando con alcune case editrici quindi sono incuriosita dal sapere anche insomma quello che esce diciamo che io non amo granché i booktuber non italiani perché tendenzialmente il loro aspetto critico non mi colpisce moltissimo però diciamo che per i contenuti un po' veloci un po' da assorbire in maniera molto leggera sono molto utili e direi che diciamo per le novità questo è più o meno quello che faccio ecco diciamo che soprattutto per le novità fantasy guardo molto all'estero poi ovviamente cerco un po' di indagare il mercato italiano ma se aspettiamo le case editrici italiane campo a cavallo invece poi ci sono tutto ciò che parte da altro ok io ho numerose fisse che spesso cambiano perché oltre ad essere gemelli sono anche una persona parecchio scostante anche con l'umore e quindi io passo da un'ossessione all'altra ho dei momenti di vera e propria fissa per esempio mi interessa un argomento perché magari leggo qualcosa sul tema e ne divento ossessionata e quindi inizio ad indagare un pochino sia sul genere o magari sulla tematica inizio a fare ricerca sulle basi storiche perché vi ripeto che io sono compulsiva quali possono essere quei libri più o meno significativi o per il genere per il tema insomma quello che potrebbe essere per la dinamica anche a volte e alcuni libri contemporanei delle novità delle cose uscite insomma negli ultimi 5 anni che possono rappresentare dei titoli validi ecco io sono tendenzialmente portata all'ossessività proprio perché devo esplorare poi tutto tutto ciò che ci sta attorno oppure trovo un autore che magari leggo un libro e mi colpisce moltissimo inizio a cercare tutti i libri dell'autore o dell'autrice ovviamente in ultimo ovviamente seguo alcuni miei colleghi che magari trovano un titolo ne parlano in una maniera che a me colpisce oppure mi ispira a quello che hanno letto e penso possa diventare interessante anche per me e quindi inizio ad indagare questo però ve lo devo dire devo essere onesta succede sia in positivo che in negativo cioè se un libro colpisce molto una persona magari mi incuriosisce perché penso che possa fare per me allo stesso tempo potrebbe essere che un libro non piace o piace a una persona e io penso che su quel libro potrei avere dei pareri totalmente opposti sia in positivo che in negativo ovviamente ma non è chiaramente una dinamica contro nessuna persona ma è più verso il libro perché sono curiosa di esplorare e sempre tenere allenata la mia capacità critica cioè un po' come spesso succede sotto i miei video magari io faccio un'analisi dove il libro o a me non è piaciuto o a me è piaciuto e molti di voi trovano che quello che io dico tendenzialmente rappresenta il contrario per voi quindi magari a me una roba non piace per alcune dinamiche che voi trovate interessanti e quindi quel libro automaticamente finisce nella vostra TBR tutto è lecito penso da questo punto di vista 7 qual è un'uscita che sta per arrivare quest'anno che tu non aspetti l'ora di vedere insomma che tu stai attendendo molto io devo dire che questo 2020 in realtà è molto desolante ci sono pochissime uscite che io attendo e non lo so cioè non c'è nulla di così rilevante se non quello che vi avevo già detto nella TBR del 2020 quindi io vi rinnovo i miei consigli sulle uscite italiane esce La Nona Casa di Libordugo esce Il Mare Senza Stelle di Erin Morgenstern a giugno e uscirà Piranesi a un certo punto di Susanna Clark nell'inverno quindi ripeto un po' quello che vi ho già detto 25 volte in questo book tag mi raccomando 8 qual è una misconception cioè un equivoco sul fantasy che tu volesti chiarire o comunque una diciamo opinione diffusa che in realtà non corrisponde alla realtà ecco quello che insomma chiede la domanda cioè il primo mito da sfatare è che c'è che il fantasy sia tutto la stessa cosa che sia tutto uguale e sia assimilabile secondo me questo è un grave errore di valutazione che si fa su questo genere ed è anche il motivo per cui sono nati i fantasy talks ovvero il fantasy è pieno di sottogeneri ci sono stili temi ambiti ambientazioni personaggi così diversi che davvero pensare che il fantasy sia solo il signore degli anelli o Harry Potter è insomma molto molto limitante e l'esplorazione di questo genere secondo me anche nelle sue varie sottoforme nelle sue varie diciamo trasformazioni nel corso degli anni potrebbe davvero avvicinare moltissime persone magari a un genere verso un altro e quindi non lo so io continuo sempre a lottare per cercare di dare un certo tipo di valore a quello che è davvero un genere che è così ampio è così poco conosciuto e poi l'altra cosa che è un altro mio pallino è che sembra che il fantasy sia nato dopo Twilight e che esista solo lo young adult cioè quello che una volta io continuo a chiamare fantasy per ragazzi cioè fantasy per ragazzi ce n'è tanto e poi tra l'altro fantasy per ragazzi non significa che sia un fantasy di pessima qualità cioè ce ne sono di pessima qualità come Twilight ma ci sono dei fantasy per ragazzi che sono magnifici allo stesso tempo il fantasy ha una storicità così lunga che non è possibile assimilarla solo negli ultimi dieci anni cioè le storie fantasy nascono con la nascita della lettura o comunque in generale con la nascita della narrazione orale quindi ci tengo sempre a essere molto precisa anche da questi punti di vista soprattutto anche perché moltissime persone hanno avuto questa prospettiva io ci tengo sempre a sfatarla l'ultima domanda invece chiede di suggerire tre libri per una persona che non ha mai letto prima fantasy e che potrebbe utilizzare questi tre punti di partenza per iniziare a leggere il genere allora ovviamente quale poteva essere il mio primo consiglio e quale è il mio primo consiglio ovviamente non può che essere sei di corvi sei di corvi di libardugo è un fantasy che secondo me è molto accessibile soprattutto a chi non ha mai letto questo genere perché è una storia che si basa sui personaggi quindi che i personaggi facciano cose ambientate in un ambito fantastico o che lo facciano sotto casa non cambia nulla perché alla fine è una storia che parla di evoluzione personale superamento del trauma quindi sono temi universali insomma cioè vabbè era perché dovevo dare l'effetto sorpresa a tutti e dirvi un titolo che non avrei mai citato no? vabbè a parte gli scherzi il secondo titolo che lo so che è un epic e a me di solito gli epic non piacciono però questa è veramente una delle mie trilogie preferite e io amo con tutta la mia forza questo libro che finalmente verrà anche ristampato in Italia la notizia di pochi giorni fa è la trilogia di Fiona Var di Guy Gabriel Kai è un libro assolutamente appassionante che secondo me può davvero introdurre i lettori che sono rimasti magari o al signore degli anelli o non hanno nemmeno mai letto quelli a una dimensione più moderna di un tipo di impostazione di narrazione così epica grandiosa dove le tematiche diciamo universali dell'umanità entrano dentro una storia che noi seguiamo attraverso una serie di personaggi in una maniera avvincente con una scrittura eccellente e insomma io lo spingerò tantissimo mi sentirete molto parlare di questa uscita perché già che la ristampano in Italia io ci tengo che la leggano anche i muri finalmente se non l'avete mai recuperato in biblioteca ultimo e non ultimo perché cioè alla fine io sono qua per scassare le balle un altro po' e non sorprenderà nessuno e a scelta io vi lascio o le cronache del vampiro o l'ora delle streghe di Anne Rice che è una delle mie autrici preferite è qualcosa che tutti quelli appassionati di romanticismo decadentismo e comunque storie cupe storie nell'ombra creature indagate nella loro psicologia in maniera eccellente con una scrittura davvero molto minuziosa molto elaborata non possono non amare non apprezzare cioè la Rice anche se è impazzita ed è fuori di testa è comunque una grande autrice almeno in queste opere e credo che dia una dimensione così umana alle sue creature e alle creature che racconta alle figure che racconta che insomma io non finirò mai di amarla e in generale do un consiglio un po' a tutti quelli che non hanno mai letto fantasy il fantasy è un genere ampissimo come vi dicevo anche prima quindi il mio consiglio principale è quello di esplorare come penso sia la cosa più utile e penso che in ogni genere ci siano delle vere e proprie perle che possono colpirti possono affascinarti possono davvero farti appassionare al genere e ovviamente invece ci possono essere situazioni che oppure libri storie che invece ti lasciano indifferente oppure ti trovi ad interrompere perché non rappresentano nulla per te come lettore quindi non ci fermiamo mai a un titolo solo poi in questo elenco non ho inserito Harry Potter perché io penso che quello sia la base da cui partire per essere un essere umano e vabbè ragazzi lo sapete che sono le mie fisse solite non è nulla di strano nulla che cambierà e direi che insomma questo era più o meno quanto perché le risposte sono perché le domande sono finite qui io spero che questo book tag vi piaccia vi sia piaciuto sia risultato divertente ovviamente io invito tutti i miei amici booktuber a farlo e insomma sentitevi tutti taggati uno per uno e quindi insomma spero che le risposte che vi ho dato possano essere utili anche per chi si vuole avvicinare o vuole approcciarsi ai primi titoli detto ciò io spero di avervi tenuto compagnia anche oggi se il video vi è piaciuto mettete un pollicino in alto ovviamente e direi che per oggi è tutto e io direi che ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao